Bella a tutti asfaltoni, benvenuti e bentrovati su Lontube Eccoci in questo video per andare a fare l'incarico Esegui forse perfette in una singola corsa Nell'evento caccia all'auto Ne dobbiamo far 5 Delle missioni stagione Dell'episodio 5 Quindi andiamo qui nei giornalieri Andiamo a fare una delle auto Che ci serve In questo caso mi servono tutte e tre le caccia all'auto Prendiamo Un'auto qualsiasi E andiamo a fare la gara Allora togliamo il touch drive In questo caso dobbiamo andare piano E la corsa perfetta E quando non andiamo a sbattere Per Alcuni secondi Ovviamente più andiamo veloce Più il tempo dovrebbe essere Cioè la strada che facciamo Dovrebbe essere Allora togliamo il touch drive Allora togliamo il touch drive Eccola qua Andiamo a fare sempre 10 Gli oggetti Vale E' parte Allora Vediamo Qua Qua Scusiamo perchè la pista è corta e non so se riusciamo a farne cinque Scusiamo Ora andiamo Allora andiamo Qui? Scusiamo Scusiamo l'incidente eccole qua perfetto in questo modo riusciamo a fare le 5 corse perfette se il video vi è stato d'aiuto mi raccomando un bel mi piace lasciate un commento se vi va e ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale non dimenticate di cliccare la campanella per non perdere i nostri video ciao a tutti